Do you know a bad day? Do you know a bad day? Do you know a bad day? I know all the bad day. Buonasera, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Donne Basket Magazine, l'ultimo dell'anno 2017, per raccontare quanto è successo lo scorso weekend, giornata importante, la terza di ritorno dell'Augusto Cup, il massimo campionato femminile di basket, con il successo di Schio, che battendo Venezia nel derby ha riallungato in classifica su tutte le inseguitrici, ma sono arrivati risultati importanti anche nella parte bassa della classifica, con la vittoria preziosa di Broni in trasferta sul campo di Vigarano, il Torino, che ha espugnato il campo di Battipaglia e ha raggiunto così proprio altre due squadre a quota 8 punti con Battipaglia, che rimane sul fondo della classifica, ben staccata dalle squadre che la precedono. Ne parleremo e come sempre abbiamo in studio con noi questa sera due ospiti, comincio a presentarvi Martina Caceric, guardia di Roma alla Venezia, buonasera. Buonasera. E con noi anche il coach del Ponte Casadaste Milano, Franz Pinotti, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Per parlare come sempre anche di Serie A2 nella seconda parte, fare il punto della situazione anche nel secondo campionato nazionale. Cominciamo andando a vedere in grafica quella che è la situazione di classifica, risultati e classifica della Gusto Cup, che è arrivata alla dodicesima giornata, questi i risultati dello scorso weekend, la vittoria importante in chiave salvezza di Broni sul campo di Vigarano, 81-71. Schio ha battuto Venezia, che l'aveva sconfitta nella gara d'andata, rivincita importante per la squadra dei coach Vincana con il punteggio di 65-56. Vittoria netta per Napoli sul campo di Lucca, 69-47. E poi Torino, che espugna Battipaglia e fa un passo importante in avanti verso la salvezza, rinviata al 17 gennaio la gara invece fra Ragusa e San Martino. Vediamo anche la classifica, una classifica che ormai è spaccata a metà, direi, perché abbiamo le prime sei squadre che sono in corsa per le prime posizioni. Schio ha quattro punti di vantaggio sul duo formato da Venezia e Lucca, poi San Martino, Napoli a quota 14, Ragusa a quota 12 e poi quattro punti di stacco con le quattro squadre che invece stanno lottando per le ultime posizioni, quelle che porteranno ai play-out. Quindi l'obiettivo chiaramente per queste quattro è di provare a evitare di arrivare fra le ultime due. Vigarano, Broni e Torino a quota 8, Battipaglia ancora sul fondo della classifica a quota 2 punti. Martina, parto da te, una classifica per voi sicuramente molto positiva. Quando siamo arrivati alla fine dell'anno, è vero, venite dalla sconfitta che ci può stare in trasferta sul campo di Schio, però comunque fra campionate d'Eurocup una stagione per voi direi soddisfacente finora. Assolutamente sì. La scorsa partita non siamo riusciti come all'andata a dettare il ritmo e quindi a riuscire a battere una squadra forte come Schio, però sicuramente stiamo facendo un ottimo campionato. Abbiamo fatto qualche errore, qualche passo falso che in un campionato ci può sempre stare. Ora dobbiamo cercare di starli con la testa e approfittare di ogni errore delle altre squadre e noi cercare di fare il meglio possibile. Per noi l'obiettivo è sempre arrivare prima, quindi cercheremo di dare il massimo e fare il meglio possibile. Franzi, il campionato ha sottigliato 10 squadre, ha portato equilibrio, ha portato tanti risultati a sorpresa in questa prima parte di stagione, però è vero che se si guarda adesso la classifica il campionato è spaccato in due tronconi. Abbiamo sei squadre che lottano per le prime posizioni e le altre quattro che lotteranno per salvarsi. Sì, tra l'altro curiosamente la differenza tra le prime sei e le altre quattro lo dà anche il saldo negativo dei canestri fatti e canestri subiti. Questo è importante anche da sapere. Ha perso secondo me un'occasione Lucca in quest'ultima partita, però Napoli è in grandissima crescita. Schio probabilmente in questo momento è abbastanza inarrivabile, però onestamente si profila a un finale Schio-Venezia. Non vedo una terza forza quest'anno in grado di frapporsi tra queste due corazzate. Vediamo allora il servizio che ci fa il punto della situazione con tutte le migliori immagini dello scorso weekend per raccontare quello che è successo nella terza di ritorno. Ultima giornata del 2017 nel segno delle rivincite per Schio. Il Famila in un colpo solo riscatta la sconfitta della settimana precedente a San Martino e quella dell'andata contro Venezia piegando l'Umana 65 a 56. Al termine di un match equilibrato e spettacolare che conferma come le squadre di Vincent e Libera Lotto siano quelle che al momento sanno mostrare la qualità di basket più alta in Italia. Il Famila la spunta alla fine grazie al parziale di 8 a 0 che chiude i giochi mandando in doppia cifra le tre straniere Jakubu, Mijem e Anderson ma Venezia mantiene a proprio vantaggio la differenza punti decisiva in caso di arrivo a pari merito in virtù del più 14 dell'andata. Il K.O. delle Lagunari è reso meno doloroso dalla contemporanea sconfitta di Lucca che non approfitta della possibilità di staccare in classifica Venezia scivolando in casa con Napoli. Una partita quella del palla tagliate mai in discussione con la Saces che ribalta anche la differenza punti con le Toscane si goda una grande Gillian Harmon dominante nella sua partita da ex. Ai 27 punti di Dolson si aggiungono i 10 di Sabrina Cinili segnale che Napoli è sempre più un gruppo compatto e profondo. Nella parte bassa della classifica il colpaccio lo fa Broni che interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive spugnando il pala a Vigarano e frenando gli entusiasmi della meccanica nova pronta a spiccare il volo dopo il successo della settimana precedente a Torino. Le Lombardi invece ribaltano il pronostico prendendo il largo nel secondo quarto per poi non voltarsi più indietro trascinate dai 14 punti a testa del duo Vojta-Premasunac. I 23 di Samuelson non bastano a Vigarano ancora alla ricerca di una straniera per sopperire al forfè di Armstrong. Il successo di Broni rimescola le carti in una corsa a salvezza che si fa sempre più entusiasmante vista anche la vittoria di Torino a battipagli in quello che poteva essere già un'ultima spiaggia per la Treofan per sfuggire dall'ultima posizione. La Fixi Pyramis però non ha sbandato in una trasferta dalle mille insidie e con un'ottima prova corale ha rialzato la testa dopo la sconfitta interna con Vigarano raggiungendo Broni e meccanica nova a quota 8 punti. Partiamo proprio dalla sfida fra Schio e Venezia quelle che molti considerano possa essere un antipasto della prossima finale. Martina avevate sconfitto Schio all'andata questa volta siete uscite sconfitte però da una gara equilibrata, spettacolare in cui comunque avete tenuto il passo del Famila per quasi tutta la gara. Sì, siamo arrivati all'intervallo sul meno 10 però poi siamo state bravi a rientrare e riprenderle. Alla fine, a due minuti dalla fine eravamo lì, eravamo meno 3 poi loro sono state più brave a segnare perché alla fine anche noi abbiamo trovato canestri, cioè, tiri aperti e loro sono state più brave a segnarli. Però è comunque stata una partita bella e dobbiamo ripartire da lì, ecco. Ecco, Schio è la squadra che è sempre lì che tutti vogliono battere e considerano un po' come lago della bilancia insomma la squadra da seguire e da provare a scavalcare. Quanto è stato importante per voi dimostrare già all'andata di poterla superare e anche in questa partita comunque al di là della sconfitta di dimostrare di poter restare con loro per tutti i 40 minuti? No, è importante alla fine perché anche noi prendiamo fiducia e ci rendiamo conto che comunque possiamo farcela. All'andata era stata una partita in cui noi avevamo dettato il ritmo e quindi anche correndo facendo più contropiedi, difendendo eravamo riuscite a fare un break all'inizio e poi a mantenere il vantaggio. Qua ce la siamo giocata poi loro hanno un roster sicuramente di talento e alla fine ha preso il sopravvento quello. Lo dicevi anche prima Franz questa partita è la partita che molti si aspettano di rivedere fra qualche mese quando si giocherà la finalissima. C'è da dire che Schio dopo un avvio di stagione con qualche infortunio magari qualche giocatrice non ancora al 100% adesso ha preso un ritmo in campionato impressionante non sta sbagliando quasi un colpo al di là della sconfitta con San Martino della settimana precedente ed è stata brava a sopperire alle assenze gli infortuni, quello di Rez, quello di Lisez con qualche rinforzo come per esempio il caso di Ruskakova e comunque non sbandando quasi mai. No, assolutamente. Schio dà la dimostrazione di essere una squadra solida, quadrata l'allenatore sta, come dire, raccogliendo i frutti del suo lavoro che è chiaro che più passa il tempo e più si raccolgono frutti e io credo che abbiano una giocatrice come Jakobu che nessun altro ha e che onestamente quando lei è in forma e gioca come sa giocare è davvero immarcabile quindi molto bene in difesa e molto bene in attacco. Per voi Martina c'è il campionato ma anche l'Eurocup giocherete contro il Saint-Amand negli ottavi di finale dopo la qualificazione ricordiamo perfetta, senza sconfitte con il miglior record assoluto di tutta la prima fase di Eurocup immagino che sia importante e sia un bel vanto per la società di cui fai parte primeggiare non soltanto in Italia ma anche in Europa. Assolutamente sì io alla fine è la prima volta che mi affaccio un'esperienza europea ed è bellissimo perché comunque ti confronti con altre realtà siamo state brave in Eurocup a non sbagliare anche se comunque i viaggi le trasferte non sono sempre facilissime però siamo state brave e adesso incontriamo questa squadra francese e speriamo di andare avanti. Ecco siete solo tre squadre in Italia su dieci di Serie 1 che fanno anche la Coppa questo può sicuramente dare qualcosa perché immagino che aiuti a cementare il gruppo ma anche togliere perché i viaggi le partite sono sicuramente una fatica secondo te visto che è la prima volta che fai anche la Coppa è qualcosa che dà in più o qualcosa che toglie di più la Coppa? Beh toglie magari dal punto di vista gli allenamenti non sono sempre al 100% perché magari c'è un po' di stanchezza c'è un po' di di fatica però secondo me è più quello che dà che quello che toglie. Franz peraltro quest'anno le italiane in Coppa se la stanno cavando tutte bene perché sia Venezia che Ragusa hanno superato a pieni voti la prima fase schio comunque lì in linea di galleggiamento per i playoff il basket femminile italiano tanto vituperato e tanto criticato alla fine almeno con le scuole di club in Europa sta facendo belle figure in giro per il continente. Sì tra l'altro è una curiosità poco prima di questa intervista chiedevo proprio a Martina ma secondo te qual è la differenza esatta con le straniere? E lei molto candidamente mi ha detto ma insomma a me sembra che non ci sia tanta differenza effettivamente hanno vinto stravinto Venezia chissà probabilmente comincia a diminuire questo gap questa differenza è chiaro anche che la differenza è una differenza secondo me di fisicità e che si incontrerà mano a mano che si andrà avanti perché si è come dire assottigliato il gap con le squadre che giocano a un certo livello ma con le prime squadre europee credo che ancora li pagheremo a meno che schio realmente non faccia un miracolo quest'anno Tu peraltro Martina sei arrivata quest'anno in una società che storicamente punta sulle giovani le fa crescere e soprattutto le fa giocare cosa che non accade ovunque direi che è importante insomma questo tipo di di rapporto con le giovani e soprattutto di utilizzo delle giovani che poi speriamo possa fare scuola anche in altri club che invece magari le fanno giocare di meno No mi sto trovando veramente bene perché sento proprio la fiducia da parte della società e alla fine non mi sento più la giovane del gruppo è vero che sono sulla carta giovane però mi trattano come tutte le altre mi fanno sentire proprio parte del gruppo e quindi mi sto trovando veramente bene Parliamo ovviamente anche delle altre gare di questo turno partiamo da quella fra Luca e Napoli vediamo qualche immagine perché anche questa era una sorta di sfida diretta fra due pretendenti alle primissime posizioni e Napoli si è confermata una delle squadre più calde del momento espugnando il palla tagliata in modo piuttosto netto con uno scarto superiore ai 20 punti Napoli sembra Franz davvero un incognito in questo momento nel campionato perché è una squadra che aveva cominciato con qualche difficoltà fra infortuni problemi anche a livello di alchimia nel roster poi però è cresciuta con il passare delle partite e adesso sembra davvero temibile per tutti anche perché ha questo trio di americani o di straniere Dolson, Gamelos e Harmon che sembrano una volta inarrestabili Sì a questo proposito esattamente poco prima della trasmissione ho chiesto proprio a Martina che cosa ne pensasse delle squadre straniere e qual è la differenza maggiore tra noi e loro ma lei molto candidamente mi ha risposto che non c'è nessuna differenza e quindi ho capito che effettivamente il gap deve essersi assottigliato diciamo soprattutto sia assottigliato con le squadre di media fascia bassa fascia perché poi dobbiamo pensare che sia per quanto riguarda la Reier che per quanto riguarda Schio le squadre più forti le top level dell'Europa così diciamo scenderanno in campo più avanti anche come competizione e quindi forse lì si vedrà però fa piacere certo sapere che sicuramente siamo migliorati ma furia di far bene con le nazionali giovanili voglio dire prima o poi anche con la prima squadra faremo più o meno bene Peraltro a proposito di giovani e di giovanili tu sei arrivata quest'anno a Martina in un club che punta molto sulle giovani che ha fatto crescere e ha mandato anche in giro per l'Italia tante giocatrici giovani di alto livello come ti trovi e soprattutto quanto è bello stare in un club perché le giovani le fa crescere e le fa giocare magari più di altre realtà in cui le giovani italiane giocano meno mi sto trovando mi sto trovando molto bene perché sento proprio la fiducia della società e sento che anche se sulla carta magari sono una delle più giovani mi danno fiducia e riesco a giocare senza neanche tutta quella pressione che magari una giovane sente quando entra in campo e poi soprattutto sento che sto crescendo molto e sto migliorando e quindi parliamo anche delle altre partite perché c'era un'altra sfida di alta classifica in programma lo scorso weekend quella fra Lucca e Napoli con una vittoria netta da parte della Sacces che si conferma Franzi in questo momento un po' l'incognita del campionato perché è una squadra che è partita con il freno tirato a causa di qualche infortunio di qualche cambio nel roster adesso però sta invece andando fortissimo con questo trio di giocatrici straniere che a volte sembrano immarcabili e questa netta vittoria su un campo tradizionalmente ostico come quello di Lucca e la conferma insomma Napoli nella seconda parte della stagione sarà una delle candidate ad arrivare molto lontano sì probabilmente sarà proprio Napoli magari la possibile outsider a provare a mettersi di traverso le due corazzate aveva iniziato realmente molto molto male per mille motivi adesso ha trovato questa alchimia con le tre straniere e in A1 è chiaro che imbroccando e indovinando le tre straniere fai veramente la differenza però stanno anche giocando bene una bella palla canestro stanno ottenendo risultati e direi che hanno fatto bingo con questa vittoria a Lucca perché onestamente hanno tagliato un po' le gambe a Lucca anche se poi tutto magari si rimetterà in gioco con la parte la fase a orologio insomma però molto bene Napoli voi l'avete battuta Napoli a inizio stagione in trasferta sul campo di Napoli quando ancora però Napoli era una squadra diversa la riaffronterete fra l'altro proprio a breve adesso però Napoli è cambiata rispetto a quella che avete battuto voi è una squadra che sembra davvero avere una faccia nuova la prima partita abbiamo giocato contro di loro e tra l'altro io non stavo giocando e non avevamo le due americane perché Williams non era ancora arrivata e Walker era fuori però era stata una partita difficile perché comunque in casa loro è difficile senza comunque due straniere è difficile però alla fine eravamo state più brave noi a a starli con la testa e a portarla a casa a ritorno abbiamo vinto di 15 però è stata una partita tirata fino alla fine poi noi abbiamo fatto il break alla fine però siamo state brave anche lì la protagonista del match fra Luca e Napoli è stata Gillian Harmon che tornava a casa nella città in cui è stata protagonista lo scorso anno con la vittoria nello scudetto Gillian Harmon in doppia doppia andiamo ad ascoltarla nel post partita insieme anche a Doris Barbiero Luca è una città molto speciale per me è stato un po' difficile ritornare qui e giocare sono felice che abbiamo vinto però sì è stato un po' difficile ritornare qui sì vincendo lo scudetto qui è stata una cosa spettacolare avevamo avuto un gruppo per quasi due anni che forse non troverò mai nella mia vita ma sì ricorderò sempre le cose buone di Luca sì Dolsen dentro è molto difficile difendere abbiamo usato lei molto bene sì abbiamo subito la pressione di Luca all'andata e abbiamo giocato molto meglio questa volta io credo che tu abbia usato la parola giusto con approccio il nostro approccio è stato troppo morbido soprattutto difensivamente abbiamo concesso a loro troppi tiri trasmarcati e ovviamente quando un avversario si gasa perché fa tutti i canestri in modo facile poi tutte le cose diventano più difficili non siamo né riusciti ad avere un buon impatto difensivo e meno che meno offensivo quindi per loro il nostro approccio è stato talmente soft che hanno giocato sul velluto ma sai in queste situazioni cerchi di trovare qualcuno che faccia squadra tenga unite tutte le cinque giocatrici in campo io credo che negli ultimi forse cinque sei minuti siamo riusciti ad ottenere questo anche se ormai la partita era andata c'è stata una minima reazione guardiamo guardiamo avanti nell'altro campionato quello delle squadre che sono in lotta per la salvezza sono arrivate due vittorie esterne entrambe molto importanti quella di Broni sul campo di Vigarano e quella di Torino sul campo di Battipaglia Franz Vigarano se avesse battuto Broni avrebbe fatto un passo di avanti enorme verso la salvezza forse sarebbe stata già quasi del tutto salva e fuori dai play out con questa vittoria invece tutto si riapre perché adesso Broni Vigarano e Torino sono tutte e tre a quota otto punti e questo ti dice l'intensità e la mentalità con cui sono scese in campo le ragazze di Broni perché per loro era veramente una finale da Coppa dei Campioni e devo dire che soprattutto le due straniere hanno giocato una partita incredibile ma tutta Broni sta crescendo e poi hanno questi meravigliosi tifosi che vedete anche qui in televisione i Viking che li seguono dappertutto e che non hanno fatto mancare il loro rapporto e questo conta tantissimo guarda perché andare a giocare a Broni è uno dei campi più difficili dove vincere se loro riescono a trasportare un pezzettino di Broni come hanno fatto in questo caso a Vigarano diventa un'arma in più veramente mentalmente hanno vinto questa partita non facile vincere neanche a Battipaglia lo ha fatto la tua ex squadra la Fixi Piramis Torino Martina lo scorso weekend e anche questa è una partita fondamentale perché Torino veniva dalla sconfitta interna con Vigarano aveva fatto un brutto passo falso perdendo in casa battendo Battipaglia che al di là della classifica non è mai facile da superare in casa Torino si è rimessa in linea con le altre pretendenti in questa battaglia per evitare i play out sì Battipaglia non è una squadra facile da affrontare noi che comunque avremmo dovuto scendere in campo a Battipaglia essendo abbastanza tranquilli poi alla fine abbiamo perso quindi comunque Torino ha fatto un ottimo colpo vincendo in casa loro Torino è una squadra che ha un sacco di energia e se vuole vincere ce la mette sempre tutta quindi a due americane che comunque stanno dando il loro contributo e sono state brave a portare a casa questa partita Rimane Battipaglia sola sul fondo della classifica con due punti andiamo nel post partita proprio a Battipaglia per ascoltare le parole di coach Lamberti ma dispiace perché secondo me abbiamo giocato un primo tempo molto povero da un punto di vista dell'energia che abbiamo messo in difesa e questo ha contribuito a favorire le percentuali molto alte di Torino secondo tempo la nostra energia difensiva l'intensità difensiva la pressione che abbiamo provato a mettere sulla palla è sicuramente cresciuta e ci ha fatto rientrare in partita chiaramente abbiamo pagato alla fine lo sforzo di recuperare uno svantaggio abbastanza importante il grande rammarico è per il primo tempo che abbiamo giocato il secondo tempo secondo me le ragazze sono state brave nonostante la sconfitta c'è una giocatrice di Battipaglia nel quintetto ideale della giornata che andiamo a vedere in grafica si tratta di Jory Davis miglior marcatrice del campionato nonostante appunto l'ultima posizione in classifica della Treofan Jory Davis nella sconfitta con Torino 21 punti 9 rimbalzi e 7 assist insieme a Jory Davis anche Katie Samuelson di Vigarano 23 punti 3 triple nella sconfitta con Broni Battabe Zempari sempre di Vigarano 19 punti 13 rimbalzi nella sconfitta con Broni Stefani Dolson di Napoli 27 punti 9 rimbalzi nella vittoria su Lucca e anche Gillian Armon doppia doppia 16 punti 13 rimbalzi sempre nella vittoria sulle Toscane archiviamo il discorso legato alla Serie A1 parliamo anche di Serie A2 e parliamo a Franz del Girone Nord un Girone che sta cominciando a mettere i primi verdetti per quanto riguarda la qualificazione alle finale di Coppa Italia voi venite dalla vittoria con Albino però siete rimasti fuori dalla corsa per partecipare alle finale di Coppa Sì noi siamo partiti con grandi difficoltà per una serie di infortuni fisici che hanno lasciato fuori buona parte del quintetto base e nelle ultime cinque partite però ne abbiamo vinte quattro e sembrava che amessimo un trend molto positivo e stavamo provando a prendere a ciuffare per i cappelli la Coppa Italia onestamente la sconfitta di Crema ci ha tagliato le gambe pur vincendo il primo quarto 23 a 10 e mettendoci nella miglior condizione per condurre quella partita è stata un po' la fotocopia degli ultimi anni quando noi andiamo a Crema e stiamo per fare fuoco e fiamme per uno due quarti e poi alla fine perdiamo la benzina sicuramente in Coppa Italia ci andranno Geas che nonostante la sconfitta con Verona ha comunque fin qui dominato il girone credo assolutamente Costa Masnaga la stessa Verona e più probabilmente è il quarto posto che è ancora un po' in bilico ma Vicenza la vedo in prima linea ecco la squadra che effettivamente fin qui ha dominato il girone nord e la tua ex squadra quella in cui tu sei cresciuta ovvero il Geas ricordiamo che quest'anno chi vince la regular season va direttamente in A1 senza dover passare dai playoff potrebbe essere questo seppur fra mille difficoltà Martina l'anno buono per il Geas per tornare dove dovrebbe stare visto il blasone che ha io sarei felicissima per il Geas perché comunque è il posto che si merita l'anno scorso hanno sfiorato la promozione quest'anno se dovessero salire sarei molto contento ovviamente sarebbe difficile tornare a giocare contro di loro però però sarebbe bello nel girone sud invece la situazione è abbastanza intricata Franza anche qui abbiamo una squadra che guida la classifica con 24 punti ovvero Empoli seguita da San Giovanni Valdarno 22 Bologna 20 Palermo 18 anche qui abbiamo sulla carta le quattro squadre che sembrano in questo momento riqualificate per le finale di Coppa però ancora c'è qualcosa da decidere in questi ultimi turni sì qui grandi complimenti a Cioni che è l'allenatore di Empoli è l'unica squadra di serie A2 a zero sconfitte sta giocando una bella palla a canestro anche quando ci sono partite difficili e c'è fatica riescono con la resilienza a venirne fuori quindi hanno un'ottima squadra hanno fatto anche dei buoni innesti buoni acquisti su una squadra che era già forte e Valdarno ha Iannucci che come tu sai è una delle mie giocatrici preferite che sta trascinando questa squadra ad altissimo livello poi c'è Bologna che come sempre negli ultimi anni arriva lì salvo poi magari non salire in A1 per mille motivi e poi dal quarto posto in poi bene Palermo che addirittura adesso ha Santino Coppa come allenatore quindi caspita tanta roba però onestamente per la A1 cioè nel Girone Nord io vedo Geas e Costa Masnaga e non ne vedo tanti altri per il Girone Sud probabilmente boh non lo so Empoli sicuramente Bologna ma poi vorrà andare questo è un po' una pecca del nostro movimento quello di fermarsi e di non salire e ora probabilmente bisognerebbe ripensare un po' tutto quanto diminuire i costi di una serie maggiore che ha veramente troppa e tanta differenza con la serie A2 cioè tra A1 e A2 c'è una differenza di investimento economico che è troppo troppo alta quindi qui secondo me bisognerà operare a livello federale Chiudiamo la nostra trasmissione andando a vedere il prossimo turno della Gusto Cup Serie A1 ricordandovi che si ferma questo weekend per la sosta di Capodanno queste le gare invece del 7 gennaio Broni contro Venezia Vigarano contro Lucca Napoli contro Ragusa San Martino contro Battipaglia Torino contro Schio noi di Sport Italia saremo a Napoli per la sfida del sud fra la Saci se la passa l'acqua per voi Martina una ripartenza non facilissima giocare a Broni è sempre difficile magari più per motivi ambientali che tecnici perché sappiamo il tifo di Broni è sempre caldissimo giocare da loro è sempre difficilissimo loro hanno i Vikings che sono veramente super ogni squadra vorrebbe avere un tifo così però siamo consce delle nostre capacità e non vogliamo fare passi falsi siamo in chiusura grazie Martina Caceric grazie a voi e grazie a coach Franz Pinotti grazie a tutti voi grazie l'appuntamento con Donne Basket Magazine la prossima settimana non si ferma sempre giovedì per fare il punto sull'anno solare e per parlare di quello che sarà nel 2018 grazie e alla prossima grazie a tutti